Una stagione di qualità, quella presentata dal Teatro Stabile d'Abruzzo per riportare il pubblico a teatro con capienza piena, ad illustrarla il direttore Giorgio Pasotti con il sindaco Pierluigi Biondi e il presidente della regione Marco Marzilio, in collegamento anche il presidente del TSA Pietrangelo Buttafuoco. Dieci spettacoli organizzati in due turni per permettere maggior afflusso, che partiranno il 23 novembre per terminare il 12 maggio. Tra questi spiccano le produzioni del TSA. Arriveranno in città Valeria Solarino, Edoardo Leo, Luca Argentero, Marco Bocci, Lino Guanciale e altri attori e attrici di spessore, con regie importanti, tra le quali quella dell'abruzzese Davide Cavuti, in Itaca. Uno spettacolo porta alla regia di Alessandro Gasman, che è stato anche direttore dello Stabile abruzzese. E un grande tributo a Gigi Proietti è stato dato dal direttore del TSA Pasotti, che ha pensato a lui di ispirazione per questa stagione. Sarà una stagione molto bella e molto importante. ho voluto dare un segno, come dire, molto netto di quello che secondo me dovrebbe essere una proposta teatrale che non deve dimenticare di nessun tipo di spettatore, deve soddisfare le esigenze di un pubblico che ormai non solo è trasversale, ma deve essere il più eterogeneo possibile. Ci sono titoli importanti, come Lo Zingaro, Hamlet, che vedrà recitare lo stesso Pasotti, Clitemnestra di Luciano Violante, Fontamara, Dal vivo sono molto meglio, è questa la vita che sognavo da bambino e altro. Un cartellone che mantiene un'identità legata al territorio, ma spazia anche su autori internazionali, con l'intento di accontentare tutti i gusti. Domani partirà la campagna abbonamenti. La cultura all'Aquila non si è mai fermata, ha sottolineato il sindaco Perluigi Biondi, un pensiero speciale da parte del presidente Marsilio, anche alle maestranze che hanno sofferto a causa della pandemia. Il sindaco ha pur annunciato che arriveranno dei fondi per sostenere le associazioni. In collegamento, il presidente del TSA, Buttafuoco, ha ricordato come l'arte sia anche una fonte di economia e commercio. Come servizio pubblico, il TSA ha detto, deve garantire una qualità e una cifra che contraddistingue la tradizione immensa di questo grandissimo teatro.